Solo con Dio ci sono allegria e gioia. Senza Dio, il vero Dio, non solo non si va da nessuna parte, ma non si hanno nemmeno le carte e regola per ridere. Se per ridere intendiamo un'espressione di gioia. Infatti, senza Dio non c'è nemmeno la gioia, perché senza Dio c'è il non senso e con il non senso vi è solo angoscia, inquietudine e disperazione. È talmente vero questo che il cristianesimo cattolico, che è l'unica vera religione perché Dio è cattolico, afferma che l'esperienza della gioia è importante. Addirittura necessaria. Non testimoniare la gioia vuol dire non testimoniare l'avvenimento salvifico di un Dio che incontra l'uomo nella propria natura. Vuol dire non rendere il cristianesimo per quello che vuole essere. Insomma, il cristianesimo afferma una sorta di obbligo ad essere felici. Se il cristiano non mostra gioia, vuol dire che la sua esperienza non è vera. La gioia del cristiano deve essere nota a tutti gli uomini. Deve essere un segno per tutti. Un santo triste, diceva San Francesco di Sales, è un triste santo. Già nell'Antico Testamento la gioia si presenta come realtà costitutiva del fedele. Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. Così anche nel Nuovo Testamento Rallegratemi nel Signore sempre Ve lo ripeto ancora Rallegratemi La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini Il Signore è vicino San Francesco d'Assisi San Francesco d'Assisi Il giullare della Letizia è convinto che il cristiano non possa essere triste Per lui la tristezza viene dal demonio Ciò che è segno di Dio il sorriso L'allegria e dono di carità e servizio di amore Sicurissimo rimedio racconta fra Tommaso d'Acelano Contro le mille insidie e astuzie del nemico il nostro santo affermava essere la letizia spirituale Infatti diceva Il diavolo fa grande tripudio quando può togliere la gioia dello spirito ad un servo di Dio Egli porta una polvere con la quale appena può gettarla per qualche spiraglio nella coscienza in su dice il candore della mente e la purezza della vita Ma quando invece i cuori sono pieni di spirituale letizia in vano il serpente schizza fuori il suo mortale veleno I demoni non possono offendere il servo di Cristo quando lo vedono pieno di santa gioia Invece quando l'anime è disposto al pianto desolato e afflitto o si lascia facilmente vincere dalla tristezza o si lascia trasportare avvani piaceri Si studiava perciò Egli stesso di essere sempre lieto e conservare l'unzione di spirito e l'olio della letizia Evitava con somma cura la pessima malattia della malinconia Così che quando la sentiva infiltrarsi pur di poco nel suo spirito subito si metteva a pregare Sant'Ignazio di Loyola Un giorno Sant'Ignazio di Loyola comunicò ad un novizio non sicuro della propria vocazione che ormai era convinto che il giovane fosse realmente chiamato alla vita religiosa Il motivo della sua convinzione era che negli ultimi tempi lo aveva visto spesso ridere ed essere allegro Il santo spagnolo infatti riteneva il sorriso una spia sicura della chiamata di Dio L'austera riformatrice del Carmelo la mistica Santa Teresa d'Avila soleva chiedere nella preghiera di evitare le espressioni acide Le sue monache desideravano sempre che ella partecipasse alle ricreazioni perché il suo parlare era pieno di allegria di battute e frequentemente affibbiava loro nomi giocosi Celebre il caso del beato Crispino Daviterbo al secolo Pietro Fioretti nato nella seconda metà del XVII secolo e passato alla storia per la sua giovialità e per il suo gusto di cantare e fischiettare Si dedicò dapprima al mestiere di calciolaio e lavorava cantando e fischiettando Poi si fece Frate Cappuccino e prese il nome di Crispino Anche in convento soleva cantare e fischiettare cucinando facendo l'ortelano il portinaio assistendo ai poveri i carcerati i bambini abbandonati sempre cantava e fischiettava Molti si convertivano affascinati dalla sua allegria e molti non solo semplici ma anche nobili dotti e perfino alti prelati si facevano spiritualmente dirigere da lui Con sapienza e con allegria il frate risolveva anche casi più difficili Il curato d'Ars e Don Bosco San Giovanni Maria Viannè il celebre curato d'Ars continuamente invitava i suoi parrocchiani ad avvisarlo qualora lo avessero visto triste altrimenti avrebbe provveduto a confessarsi Egli era convinto che la tristezza venisse dal peccato e dal demonio San Giovanni Bosco non si stancava di dire ai suoi ragazzi che il Signore si dovesse servire sempre nella letizia Già da adolescente utilizzava il gioco e lo scherzo per attradi al Signore i suoi coetanei ed evitar loro il peccato Scrive di lui il salesiano Luigi Chiavarino che trascorse molto tempo della sua vita con il Santo Ogni volta che vedeva crocchi di compagni amici o conoscenti e poteva temere che uscissero in qualche discorso poco onesto bellamente vi si introduceva e cominciava a distrarli con parole cortesi poi intraprendeva qualche gioco gustoso Ora li sfida Ora li sfidava a prendere un soldo da terra col dito mignolo e con l'indice della stessa mano Ora far arco della persona rivoltandosi totalmente indietro così da toccare il suolo con il capo Ora congiungere bene i piedi e acchinarsi a baciare la terra senza toccarla con le mani altre volte li sfidava a prendere con la bocca un pomo galleggiante in un mastello e ripieno d'acqua una moneta nascosta in un recipiente pieno di farina oppure a correre e saltare coi piedi legati insieme da una funicella altre volte prendeva a declamare versi parlare in latino in greco improvvisava sermoni dialoghi commedie così occupati più nessuno pensava a discorsi pericolosi e partivano sempre con qualche salutare pensiero nei quali Bosco era maestro perfetto sempre ridere e scherzare ma senza mai peccare Sant'Omaso d'Aquino per concludere ricordiamo ciò che dice a riguardo Sant'Omaso d'Aquino il più grande teologo egli arriva ad affermare che la mancanza di allegria può nascondere un peccato l'allegria il gioco certo non quelli maliziosi sono per lui una manifestazione della razionalità umana che può essere perfino virtuosa l'uomo egli scrive come ha bisogno di riposo fisico per ritemprare il corpo il quale non può lavorare di continuo per la limitazione delle sue energie così ne ha bisogno per l'anima ora il riposo dell'anima è il piacere perciò per lenire la fatica dell'anima bisogna ricorrere a un piacere interrompendo la fatica degli occupazioni di ordine razionale nelle collazioni spatrum si narra che San Giovanni Evangelista poiché alcuni si scandalizzavano per averlo trovato mentre giocava con i suoi discepoli comandasse a uno di loro armato di arco di lanciare una freccia e avendo costui fatto questo più volte li domandò se poteva ripetere di continuo quel gesto l'arciere rispose che in tal caso l'arco si sarebbe spezzato e allora San Giovanni replicò che anche l'animo si spezzerebbe semmai gli fosse concesso un po' di riposo ora le parole che ora le parole e gli esercizi in cui si cerca soltanto la distensione dell'animo si denominano appunto scherzosi o giocosi quindi è necessario ricorrere ad essi al ristoro dell'anima il gioco può essere oggetto di una virtù nelle cose umane tutto quello che va contro la ragione è peccaminoso ora è contro la ragione essere di peso agli altri col non mostrarsi mai piacevoli o con l'impedire il divertimento altrui quelli che rispetto al gioco peccano per difetto e non dicono mai niente da ridere e non tollerano che altri lo facciano sono in difetto nota di basta bugie l'articolo seguente dal titolo è l'allegria la causa dello star bene o è lo star bene la causa dell'allegria rassume e concretizza i concetti espressi nel precedente articolo ecco l'articolo completo pubblicato sui tre sentieri il 10 agosto 2019 spesso si dice che l'allegria sia il vero e unico mezzo per star bene che l'allegria sia indispensabile e verissimo ma l'allegria non è la causa dello star bene è il contrario è lo star bene la causa dell'allegria non si tratta di essere pignoli tutt'altro si tratta di essere realisti e uomini di buon senso la vita è piena di difficoltà e molte di queste purtroppo non sono risolvibili per non soccombere si deve essere capaci di dare un senso a ciò che accade bello o brutto che sia se tutto risponde ad un senso allora tutto può essere sopportato e vissuto senza che opprima impietosamente ma perché questo senso ci sia occorre inserire Dio nella propria vita si avete capito inserire ciò mettere Dio dentro le proprie facende le proprie azioni le proprie fatiche le proprie angosce dentro tutto solo così rimettendosi ad un progetto di amore che permette ciò che ci accade solo per il nostro bene il dolore diventa sempre compatibile con la speranza e così l'allegria non solo diventa possibile ma viene fuori spontaneamente altrimenti siamo dinanzi ad un'allegria beota beota o al limite forzata dura di un'allegria